quindi signori siamo tornati su The Last of Us parte 2 questo è il terzo flashback che ci capita mi pare non mi ricordo quanto tempo prima gli eventi di Seattle fosse questo comunque lei è tornata all'ospedale di Salt Lake City per vedere se riesce a scoprire qualcos'altro anche perché è vero che ci sono molte cose che non tornano guardate guanti e mascherine sembra il 2020 e ha ragione perché ci sono effettivamente un bel po di cose che non tornano Joel poteva inventarsi una balla migliore forse non andrà a finire bene comunque vediamo cosa troviamo qui perché siete scappati creepy sto posto qua che c'è lo sviluppo ha creato una mutazione vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria è roba grossa sono io questo è il suo morso qui cosa c'è domani a quest'ora avremo cambiato il corso della storia ok ok non c'è nulla donna è stato un piacere raccogliere e catalogare questi rari strumenti medici e ora che ho finito vengo a sapere che ho lavorato per nulla non riesco a credere che abbiate deciso di mollare cazzo ho capito ci siamo lasciati sfuggire un vero miracolo è uno schifo il mondo intero fa schifo ma non possiamo arrenderci in questo modo e ora ci stabiliamo nelle zq ci uniamo qualche cellula della resistenza di terza categoria fa un culo quella merda ci sarà qualcuno coi importi ancora passerà il resto della mia vita a cercarli o morirò nel tentativo ok probabilmente è morto nel tentativo questa è la stanza questa è la stanza sono partiti quasi tutti andrò anch'io non so con quale gruppo io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile l'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto il miracolo qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile qualcun altro immune al contagio sarebbe inutile Lei non abbraccia Va a finir male Spiegami Che è successo qui Se mi menti ancora una volta Me ne vado E non ci rivedremo mai più Ma se mi dici la verità Io tornerò a Jackson Qualunque essa sia Dimmi la imposta Già Per creare un vaccino Ti avrebbero ucciso Mi voglio fermati Mi voglio fermare un vaccino Mi voglio fermare un vaccino Cazzo Non mi toccare Tornerò indietro Ma abbiamo chiuso Alla fine Era prevedibile Che si sarebbe scoperto Non era dura Immaginare che sarebbe finita così Anzi mi chiedevo Perché non Non fosse ancora successo Non è Alla prossima. Alla prossima. Non so dove devo andare, però... Ah, ok. Qua ci sono tipo delle luci. Dove sono quei due? Bella domanda. La chitarra? Non mi esercito, non mi interessa. Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. È incinta? Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo in grado. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Già. Fanculo. Salviamo Tommy. l'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato, Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo... Lasciamo Dina qui da sola? Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Quindi andiamo all'acquario con con Jesse. Ciao. Ehi, Bella. Devi chiuderci la porta. Andiamo. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Ok. Si resta mai asciutti in questa città. Mi sa di no. Ok. Forza vai. Io vorrei trovare un banco da lavoro. Perché ci sarebbero un paio di cose che vorrei seriamente fare. Ok. Arrivo. Grazie. Aspettate che qua si può entrare. Secondo me. Sì. L'acquario è una parte degli ultimi. Non credo. Nora ha detto che abbia lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Un problema. Che genere di problema. Ha fatto una fottuta strage. Sì. Tra contrabandieri. E hanno discusso per un carico. Vabbè. Quello è successo prima. Qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Cazzo. Fa differenza per te? No. Aspetta. Quindi. Ah no. Aspetta. Quindi le nostre priorità sono cambiate. Però che palle. Io volevo vendicarmi. No. Non c'è nulla qua. Ah che bello. Tutto scosceso. Qua si può salire. No. Ditemi se volete cosa preferireste che io vi portassi dopo questa serie. Così magari mi faccio già un'idea. Poi se non cambia nulla. Qua dietro c'è qualcosa? Sì. Andiamo. A vedere. Oh. Molto bene. Come sono messo munizioni? Allora qua ne ho. Qua ne ho. Qua. C'è il silenziatore creabile. Integratori. Carapoli esplosivi migliorate. Ah no. Farei il raggio in modalità ascolto. Ok. Zero proiettile. Eh un proiettile. Eh che bello. Oh che bello. Un altro proiettile. Va bene. Altro. Eh. Nastro adesivo. Frecce. Mie. Molto bene. Aspetta. Va là. Aspetta. Già. Dammi un momento per fare un controllo di questa cavolo distanza che di sicuro c'è roba. Ecco. Forbici. Fai vedere. Qui è bloccata abbiamo detto eh. Sì va bene. Ok. Niente da fare. Qua che c'è? Eh la madonna con penetrazione poligonale estrema quella. Ok nulla. Eh vabbè molto utile eh. Questa cucina. Oh. Questo che è? Integratorini. Sì. Adesso lo posso fare il no il coso lì. Adesso posso fare qualsiasi cosa. Oddio a sto punto non so perché anche il movimento ah no dopo ci sono i silenziatori migliorati dammi il movimento da disteso che è molto utile il movimento rapido da distesi. Molte volte mi avrebbe fatto comodo un bel po'. Io credevo che questa fosse una zona opzionale ma forse non lo è. Sai che potrebbero tornare a Jackson. Gli faremo un culo che non ne hanno un'idea. Mio Oh altre parti di armi eh no apri la porta. che vuoi dire che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città per quello che hanno fatto e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joe questo posto è diverso da Jackson cioè le Tommy hanno aiutato a Abby quando è stata attaccata qui non sanno fare altro che uccidere cioè ti hanno sparato a vista no? Sì Oh l'ho trovato aspettate una cartina ok aspettate prima di andare qui che di sicuro ci andiamo qua cosa c'è? che non abbiamo visto una lama ma c'è così poca ro oddio no questo no perché poi si va da un'altra parte e a me serve il banco da lavoro ma su serio c'è solo una lametta così in tutto questo posto ah no c'è anche del nastro adesivo utile ma a parte di armi che è quello per cui sono venuto qui un cazzo me l'aspettavo fa un po' vedere va là dovrei avere un bel po' di roba come a parte di armi fai vedere 132 credevo un po' di più aspetta cos'ho cos'ho letto telemetro oddio ragazzi col telemetro sull'arco diventiamo il gesù del tiro ma a sto punto ah no volo c'è il tiro eh un'altra cosa molto utile per l'arco è la velocità di tiro effettivamente dai allora questa volta abbiamo concentrato tutto lo sviluppo sull'arco e sinceramente credo che non me ne pentirò ok anche se avrei preferito fare la stabilità potendo ma non potevo quindi amen oddio guardate fottuto robin hood allora andiamo via con che anno l'hai sostituito quella sbagliata va bene adesso usciamo di qui ok cioè è lì ah no ok c'era anche lui che doveva unirsi di qua spiegami una cosa perché non mi ha detto che era incinta ascolta io penso che te ne parleranno appena oggi esuce gente ottimo modo per testare l'arco ora che ne abbiamo l'occasione signori ovviamente la modalità ascolto fa pena quindi non non li vede cristo santo allora quelli sono due ho un colpo silenziato 5 frecce e poi gli attacchi fisici oddio ma se questi vengono qua noi siamo fregati c'è ma dai come faccio io guardatelo dove sei messo cioè ma allora ditelo che lo fate apposta guarda c'è l'amico dietro in teoria nessuno se l'è cagato ok vedete che ora l'arco è diventato una cosa micidiale troia dovevi rimanere girata per un altro mezzo secondo scarso troia vabbè tanto ne sono rimasti pochi cucù doppio colpo sarebbe molto figo salve sono finiti ora ecco bene questi lupi hanno il grilletto facile e noi di più una setta di maniaci si ne stavano parlando i serafini mi pare serafitti non se vabbè lasciamo perdere l'hai mai visti? no meglio per te oh il braccino ma che carino ma questi idioti non hanno munizioni dai toccherà cercarle come sempre oddio sembra che ci siano eh perché ricordatevi della mia solita fortuna colpa per il fucile meglio di niente sicuro non mi serve oh mio miei molto bene ok sto posto non apri niente fammi andare da quell'altra parte ehi e questo da dove ne è uscito da dove si sono materializzati questi due bellissimi proiettili ok colpi ancora colpi ok no niente di utile oh gesù così tanti posti così poca roba oh qualcosa di utile molto bene finalmente cristo amen eh eccolo cos'è alcol non lo posso prendere come sono messo ok no va tutto bene va tutto bene nulla 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 vabbè che bello bende qua dietro mi sa che non si può andare aspetta aspetta ok fai vedere no si anche qua non c'è nient'altro secondo me andiamo avanti andiamo avanti ok e adesso perché non proviamo di là vabbè pieno c'è è un posto completamente aperto quassù cosa c'è intanto dov'è finito jesse stronzo pieni aiutami per l'ustra oh vabbè non c'è nulla qui praticamente potevano mettere qualcosa di un po' più interessante ah no aspetta si passa di qui ok infatti mi chiedevo come facesse una zona ad essere così inutile ok molto molto bene proiettili per la revolver mi servono oh nient'altro ok bene aspetta perché non lo so però no non c'è nulla per illustrare a destra qui niente aspetta aspetta a questo punto andiamo via qui su che si arriva un'apertura è questa la strada o si ok ok nulla nella macchina quindi il posto è eh esatto l'acquario ah madonna un po' più lontano no un po' più lontano no minchia ruota panoramica quanto saranno oddio non lo so saranno un paio di chilometri ok che può sembrare poco però contate che dobbiamo passare in questo modo con stronzio ovunque non è completamente ovvia la cosa oh gesù ho un'idea aspetta forse se io eh esatto vedete c'è tipo il buco poi torni su e dall'altra parte allora si sale lì ma si sale anche tipo qua c'è roba? non lo so ok di qua si va si passa di là di qua cosa c'è? ah esattamente uguale si passa di là ok va bene a sto punto cos'è che sto mancando ah ok allora fammi vedere cosa c'è che qua ok vicolo cieco la fai a passare se ti sareste opposto ammiravo e non sopporto sia finita così sarei venuto frase equivocabile l'ultima che ha detto anche Joel aveva un debole per te sai e credeva mi fossi presa una sbandata davvero ok al massimo e non ho capito che posto dovrebbe essere questo sembra tipo un bar non lo so un bar libreria che cazzo ne so non si capisce qua ci sono dei tavoli e là c'erano dei libri qua su cosa c'è cosa qui dove cosa ha visto no 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 sono appena salito non voglio scendere di nuovo ah non hanno munizioni aspetta ti lascio qualcosa oddio non so se sono già andato no vabbè facciamo che torniamo in strada tanto ma non sono completamente a secco potrebbe andare peggio oh aspetta è qua sotto che c'è oh bello molto bello molto bene 11 integratori eh altro dimmi di si oh si andiamo avanti andiamo avanti vai vai lo attacca aspetta peccato percate altri sopravvissuti oh gesù è pieno qua oh oddio l'ho visto adesso quel tipo guardate io non credo di colpirlo da qui oddio è un mezzo suicidio però forse eh no aspetta 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 ah beh oddio no non ci posso credere il tipo col cane no ma perché perché i cani mi perseguitano cristo certo che abbiamo ospiti dove il cazzo di cane non sta fermo vacca sua madre fottiti guarda 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 aspetta ora liberati dove cazzo è il cane è già morto il cane grande jesse headshot falciato un altro headshot dai fatevi avanti chi altro c'è qua eh mia questa freccia ok bene molto bene oh che carini che siete questo beccata ce n'è un'altra oh non lo vedevo aspetta 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 e fottiti e fottiti dai testa di cazzo oh tombola minchia non si riusciva ad avvicinare ah se ce ne fossero altri gli faremo il culo senza problemi non dirlo allora direi che diamo un'ultima controllata poi non so dipende quanto ci metto se riusciamo a passare oltre oppure spezzo il gameplay a sto punto guardate se continuo così a trovare munizioni ogni tanto e non essere mai completamente a secco io direi che posso anche quando trovo nemici così posso anche direttamente sfruttare l'effetto sorpresa e sparargli a prescindere eh tutta colpa di quei cazzo di cani senza di loro sarebbe tutto troppo facile vero Naughty Dog guardate che bello una fucilata in testa questo gli ho fatto light shot appunto col fucile questo qui non mi sembra gli sia piaciuto tanto però a me è piaciuto fai giù scendi scendi e niente c'è quella zona lì guardiamoci poi andiamo oltre qua cosa c'è bueno ok ok qua nulla oddio c'è stato un piccolo callo di frame rate oh non c'è niente qui su ok 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 molto bene al massimo me l'aspettavo niente nient'altro finito qui questa zona va bene se si può uscire da qua preferisco ok nulla andiamo avanti a questo punto se non mi ammazzo a scendere così ok no qua siamo stati non lo so fa vedere mi sa di no no non lo so cristo ah si siamo stati qua poi si sale non qua lì vabbè è uguale ok si eravamo stati qui nulla andiamo andiamo avanti no si ok si si passa su ok va bene salire di là no non ancora almeno madonna mia è possibile che ci abbiano messo così poca roba in tutto questo spazio so nemmeno dove diavolo sto andando so solo che voglio il rifornimento oh un banco da lavoro che non ho raccolto parti di armi da nessuna parte quindi è inutile oh gesù aspetta aspetta ricordiamoci che il banco da lavoro è qui mio questo dio mio che parto queste zone qua siamo stati no ma io che ne so va su cosa c'è un altro piano di sopra aspetta di qua mi sa che si va oltre abbiamo saltato una zona torna di sotto non siamo non abbiamo guardato qua sotto cosa c'è vaffanculo si sale e basta è dove eravamo prima allora adesso facciamo il folle tentativo di vedere se riusciamo a ricavare qualcosa da qui cosa che non succederà mai perché non ho un cazzo signori 17 cosa faccio con 17 mi ci grato il culo con 17 parti di armi fammi salire non mi ricordo nemmeno dove cristo si andava a salire ok anche qui concordo quindi c'è una strada lì c'è quella strada però allunga di un casino il tragitto oppure c'è quella furbo prendi gli infottiamo una barca e andiamo dove dobbiamo andare le ultime parole famose io faccio un piccolo giro di ricognizione qui e poi ci vediamo alla prossima parte perché è durata abbastanza questa ok aspetta aspetta c'è roba lì dentro levati ah vabbè è già rotto no ok ok qua è da dove siamo entrati via andiamo vediamo dove ci porta oddio mi ammazzo mi ammazzo ah no ok non mi ammazzo ok eh mia è questa c'è qualcosa c'è qualcosa c'è qualcosa eh sì una cartina tatuaglie ok aspetta che non può non esserci nulla qui dai ma affanculo perché tipo si poteva passare così ok no va bene è la madonna con calma Ellie va bene questo punto io direi che si arriverà a un punto di quiete oh ci sono stroze ma voi quattro passate via terra fino al porto gli altri possono restare qui in attesa di ordine ma che dobbiamo stare qui mentre un piacchino fa fuori gli altri gli ordini ok quando Jesse ha finito saliamo anche noi porca puttana Ellie da qui possiamo arrivare al porto no rubiamo la barca li hai sentiti no parlano di Tommy come fai a dirlo allora chi altro è se fosse lui non riusciremo comunque ad arrivare in tempo sta andando da Abby dobbiamo soltanto seguire sa badare a se stesso ma che cazzo il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby se te ne vai non ti salvo più il culo ti auguro di farcela quindi ora siamo di nuovo da soli oh Gesù gli siamo finiti praticamente in bocca allora io mi metto in questo angolino per non attirare troppa attenzione e poi nulla adesso io spezzo qua e riprenderemo esattamente da qui